eccoci pronti amici per la rassegna stampa del giorno oggi è venerdì 15 aprile 2022 vi auguro intanto una buonissima giornata leggeremo come sempre i giornali il resto del carlino il corriere adriatico per quanto riguarda le pagine locali intanto vediamo che oggi è un giorno particolare un giorno particolarmente sentito dalla chiesa cattolica è il venerdì santo quando si festeggia la passione del signore ebbene chi è stato in palestina che è stato a gerusalemme avrà potuto vedere i luoghi della passione di nostro signore ha potuto vedere il calvario che dista pochissimi metri dal santo sepolcro uno se l'immagina magari così il calvario come un grande monte all'esterno di gerusalemme in realtà dista pochi centinaia di metri dal tempio di gerusalemme e proprio in quel luogo sant'elena ai tempi ovviamente dell'imperatore costantino costantino era il figlio di sant'elena ritrovò la croce ritrovò il legno della croce ma le vicende del tempio di gerusalemme sono state veramente molto drammatiche perché dal primo tempio di salomone se ne costruì un secondo perché il primo tempio fu distrutto dai babilonesi poi abbiamo una nuova distruzione da parte dell'imperatore tito poi la costruzione di un tempio di giove capitolino per quanto riguarda l'imperatore adriano e poi vediamo costantino quando arriva costantino ebbene e l'attenzione si sposta sul luogo del calvario e l'imperatore stesso costruisce una prima chiesa e l'imperatrice elena ritrova appunto il legno della croce proprio in quel punto oggi ci sarà una grande affluenza una grande devozione nonostante che poi in israele in questi giorni la situazione politica civile non sia affatto tranquilla ma ovviamente la fede supera ogni problema in questo caso la devozione è veramente molto molto sentita e oggi la liturgia della passione verrà che si celebra nella chiesa di Loreto alle 17.30 verrà trasmessa su Fano TV ed ora vediamo le condizioni del tempo vediamo le condizioni del tempo il tempo si mantiene stabile soleggiato su tutta la regione con cieli poco nuvolosi salvo nelle coste dove si potrebbero così verificare momenti di nebbia e foschia per all'inizio della mattinata poi la visibilità si chiarisce nel corso della giornata le temperature massime salgono fino a 20 gradi le minime a 9 i venti spirano da una direzione di nord e nord est di invece nell'interno appunto tra la costa e le colline apriamo il giornale sul Corriere Adriatico oggi vediamo la pagina di Fano dove si parla della decisione assunta dall'amministrazione comunale per quanto riguarda il nuovo aspetto dell'area ex Agip c'erano in ballo tre opzioni ebbene l'assessore Brunori Barbara Brunori ha reso noto la scelta definitiva l'indicazione è arrivata appunto dall'assessore al decoro urbano che ha sciolto le riserve sul pressing effettuato dal Movimento 5 Stelle che ha evidenziato che ha così spinto stimolato l'amministrazione comunale con diverse interrogazioni e mozioni ebbene in questo caso la soluzione è quella di realizzare un progetto di ispirazione razionalistica che si riferisce a quello originario ideato dall'architetto Mario De Renzi nel prima metà del 1900 quando lo stesso architetto ha connotato l'area con un giardino, una specie di monumentalizzazione con la fontana, il giardino insomma per evidenziare anche la parte posteriore della scuola Corridoni che è stato uno dei suoi progetti più belli che fanno ancora oggi scuola. L'indicazione dicevo è arrivata dalla Brunori che ha sciolto le riserve escludendo che in questi due anni sia mai stata ripresa in considerazione l'eventualità di realizzare un parcheggio così come chiedevano soprattutto i commercianti della vicina via Cavour. Ed ora dunque vedremo quando e come si realizzerà questo progetto. A fondo pagina vediamo le iniziative dal punto di vista turistico, culturale che si realizzeranno nel periodo pasquale, anzi diciamo meglio da oggi fino al primo maggio. La città spalanca i suoi tesori per la primavera. Ieri c'è stata una conferenza stampa convocata dal sindaco che detiene anche la delega di assessore alla cultura insieme all'assessore al turismo Etienne Lucarelli per evidenziare un coordinamento di tutte le attrattive turistiche e culturali che sono nella città di Fano teatro, arte, archeologia. Presentati i pacchetti di proposte per tutti i gusti. In realtà non è che ci sia niente di nuovo, però il fatto nuovo è che questo coordinamento, questa integrazione, questo mettere insieme tutte le proposte rende veramente visibile tutto quello, tutto il patrimonio culturale di cui la città di Fano dispone e questo fa sì che magari molti turisti possono venire nella nostra città ma anche i cittadini possono usufruire delle eventualità che vengono loro erogate. E per quanto riguarda le novità c'è anche la riapertura del palazzo Vescovile che si potrà visitare, ovviamente gli scavi di Vitruvio dietro prenotazione effettuata con l'archeoclub e poi abbiamo i siti archeologici della Memo, abbiamo le chiese che verranno aperte al pubblico dal punto di vista anche culturale, San Paterniano, la chiesa del suffragio, San Pietro in Episcopio, Santa Maria Nuova, ci sono dei tesori artistici veramente importanti e poi il teatro, il teatro che verrà aperto per essere visitato come struttura ma anche per così proporre uno spettacolo teatrale di grande attrazione che verrà effettuato proprio alla fine del mese, negli ultimi tre giorni fino al primo di maggio. Butati via 400 mila euro per un'acciclabile che funzionava ed un articolo di spalla che evidenzia la richiesta del Comitato dell'Arzilla dopo che è stato discusso l'argomento nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, la pista dell'Arzilla, una pista che viene così accolta da tutti in sé per sé ma il modo con cui viene proposta viene rifiutato soprattutto dagli ambientalisti e in questo caso la delusione espressa dal Comitato dell'Arzilla per l'atteggiamento della maggioranza che ha rispinto una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che voleva effettuare un nuovo sondaggio per rimettere in discussione la natura dei terreni che costringono in questo caso secondo i tecnici la realizzazione di gabbionate. La variante non si risolve e le alternative non ci sono. Questo è un titolo che riguarda sempre le proteste di carattere ambientalista che si riferiscono alla variante di Gimarra. Trave, Arzilla e Gimarra. Ieri sono stati distribuiti volantini del Comitato. La variante Trave, Arzilla, Gimarra non risolve il Comitato per la salvaguardia delle tre zone. Sta distribuendo nelle case dei fanesi un volantino per illustrare l'alternativa a un progetto che minaccia il più grande, questo detto tra virgolette, il più grande scempio ambientale della storia di Fano. Però insomma l'amministrazione comunale in questo senso come fa con la pista dell'Arzilla procede con le sue decisioni e le sue direttive. E poi vediamo che c'è una sentenza del Tar che dà ragione al ricorrente contro il Comune per quanto riguarda i lavori e le pretese vantate per i lavori della darsena borghese. Si tratta della ditta Electrosolving, SRL, che ha appunto tirato in causa l'amministrazione comunale per riscuotere dei soldi. Si tratta di 113 mila euro che l'amministrazione comunale evidentemente non voleva pagare. E poi vediamo che per quanto riguarda Fano c'è un episodio di cronaca oggi sui giornali che si riferisce ad una lite per droga. Sono stati combinati otto anni all'accoltellatore. Ieri si è chiuso il processo nei confronti di un 44enne di Marotta condannato per tentato omicidio. E' stato disposto un risarcimento di 15 mila euro. La violenza era esplosa lo scorso agosto ai danni di un 47enne di Ponte Sasso dopo una telefonata dai toni accesi in cui la lite era montata. Un presunto debito di 70 euro, pensate, solo 70 euro, finito però con una coltellata al rene. E si chiuso così ieri il processo davanti al collegio del Tribunale di Pesaro nei confronti di Nicola Di Lorenzo Freschi, 44 anni di Marotta, appunto accusato e condannato per tentato omicidio. I fatti risalgono all'agosto scorso, quando il conoscente è arrivato a lite con questa persona. Cartoceto, il Consiglio, non si fa dal mese di dicembre. Malumore in minoranza insorge. Il capogruppo Longhi, sei atti non discussi. Si tratta di quattro interpellanze e di due emozioni che attendono da lungo tempo di essere discusse in Consiglio Comunale. Insomma, quattro mesi senza un consiglio forse sono un po' troppi. Invece a Fossombrone salta la fiera di Sant'Aldebrando. Lo vediamo qui in quest'articolo. Salta la fiera di Sant'Aldebrando. Doveva essere disputata il primo maggio, ma non ci sarà. Manca il tempo necessario per organizzarla. Hanno fatto sapere dall'amministrazione comunale, anche se si comprende che questa non è la risposta migliore da dare appunto a chi aspetta questo appuntamento di importante evidenza commerciale. Pesano due anni di emergenza sanitaria, insomma, e poi pesano anche il fatto che negli ultimi tempi un 30% di ambulanti aveva rinunciato a questo appuntamento. Il calo enorme di presenze, ha inciso in maniera sensibile. Insomma, bisogna ricominciare da capo, contattare le persone, contattare le aziende, insomma, predisporre tutto per la fiera e il tutto verrà rinviato al 2023. Vediamo anche la pagina di Senigallia, dove vediamo come una famiglia gestisce i bagni 52, Terrazza Marconi, uno dei bagni più qualificati della spiaggia di Velluto. In spiaggia viene offerta anche la babysitter, che verrà messa a disposizione delle famiglie, una piscina con talassoterapia e acquagym. Insomma, la famiglia Amici al timone quest'anno dei bagni 52. Insomma, un articolo che merita l'apertura a Senigallia. Ma io vi voglio segnalare anche il caso di un pakistano, di un ragazzo pakistano, si chiama Amir Hamza, è stato assunto in un ristorante a tempo indeterminato, un ristorante che propone sushi, ma non riesce a prendere in affitto neppure una stanza, non solo un appartamento, nessuno una spanza. Nessuno lo vuole, perché è straniero, perché è pakistano, insomma, si sollevano dubbi sulla sua assolvibilità. In realtà lui ha uno stipendio, è un ragazzo benintenzionato, è un ragazzo che è venuto qui in Italia per rifarsi la vita, però non trova un alloggio e questo è un caso veramente importante da mettere in evidenza. Apriamo la pagina delle Marche per dare un'occhiata a questo articolo. I furbetti del reddito, quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza ma non ne hanno diritto, ora devono pagare. Sono state scoperti, sono in 67, scattano 67 denunce. I carabinieri hanno recuperato, a livello regionale si intende. I carabinieri hanno recuperato 450 mila euro che ora queste persone devono restituire da chi non aveva diritto all'assegno. Gli illeciti sono nelle domande, ovvero sono state dichiarate false residenze, sono lavoratori in nero o proprietari di immobili che non sono stati inseriti nelle denunce. I carabinieri dunque hanno recuperato questa importante cifra. Nuclei percettori del reddito di cittadinanza nel mese di febbraio nella nostra regione sono in totale, lo vediamo in questa tabella, 10.436. 22.442 il numero delle persone coinvolte, 540 euro e 14 centesimi e l'importo medio mensile del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda le prestazioni revocate dalla introduzione della misura di sostegno al reddito vediamo che nella provincia di Pesaro sono 448, ad Ancona 1.013, ad Ascoli 446, a Fermo 341 e a Macerata 808. In totale sono 3.056 in tutta la regione. Ed ora vediamo ancora la polemica dell'arretramento della ferrovia. Dai treni alla viabilità a Pesaro deve muoversi e portare a casa tutto. E ieri il sindaco Ricci ha convocato gli stati generali delle infrastrutture in cui ha presentato tutta una sua nuova elucubrazione per quanto riguarda la reazione di fronte a questo progetto che vorrebbe l'arretramento della ferrovia a Pesaro. Un arretramento che dimostra come nei pressi della città ci sia una grande curva. Non so se riuscite a vederla in questa fotografia ma la ferrovia che costeggia il litorale a un certo punto arrivato nei pressi di Pesaro fa una grande curva per raggiungere la periferia e quindi puoi procedere non più verso non più nell'attuale situazione verso cattolica. Non la fine di un percorso ma l'inizio ha dichiarato il sindaco. Questa è un po' la direzione emersa in questo incontro che è un incontro che è avvenuto poi nel palazzo Montani Antaldi. Due miliardi per le marche, 1,2 per quanto riguarda Pesaro, 9 minuti in meno con il nodo di Pesaro e solo 5 treni in più. Bypass fino a Fano se necessario promuoverà un emendamento alla legge del bilancio ha dichiarato il sindaco. Lui stesso vuole incidere profondamente sulla modifica di questo progetto però non c'è un accordo tra tutti i sindaci e lo vediamo anche in quest'altro articolo dove vediamo la posizione del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Si faccia squadra senza bandiere ha dichiarato Ricci, si sieda al tavolo regionale e non faccia delle iniziative particolari limitate soltanto ad alcuni interlocutori. Occorre ragionare su questo progetto con una visione globale che comprenda tutte le località della regione Marche. E la stagione fa le prove con 30 hotel che sono pronti alla riapertura, la primavera in calza, i cieli sono sereni nonostante che ancora la temperatura sia ancora fresca diciamo così e diverse strutture stanno ancora ultimando gli interventi di riqualificazione. Le premesse comunque sono buone. C'è fiducia e un ritrovato ottimismo tra gli operatori che numerosi hanno rinnovato e ha modernato le proprie strutture sperando in una buona riuscita della nuova stagione. Ebbene dal ponte di Pasqua al 25 aprile 1 maggio saranno 30 le strutture che riapriranno i battenti. La stagione formalmente ha inizio per gli albergatori il 2 giugno ma già una quindicina di hotel posticiperanno la riapertura perché ancora devono terminare gli interventi di ammodernamento di riqualificazione delle loro strutture. Invece una bella iniziativa che incentiva anche il turismo è quella che si sta realizzando a Pesaro per questo weekend. Un weekend di Pasqua all'insegna del basket a 360 gradi oltre all'attesissima partita che vedrà fronteggiarsi alla Vitifrigo Arena il Carpegna Prosciutto con la Virtus. Ebbene torna a Pesaro la festa del basket un'iniziativa importante dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista delle presenze turistiche soprattutto con il torneo Ciao Rudy che si svolgerà il 21 è un giottatissimo torneo di Pasqua organizzato da Sportsman Grandi e l'associazione Olimpia Basket di Pesaro. Arriveranno 200 atleti. Poi vediamo un caso di condanna che si è svolto ieri al Tribunale sempre di Pesaro. È stato condannato Alessandro Fabri che è stato condannato per una coltivazione di canapa. Lui con quella canapa ci costruiva le borse. In realtà il giudice gli ha inflitto 16 mesi mentre il PM ne aveva chiesti addirittura 4. Si tratta di un pesarese di 42 anni si chiama Alessandro Fabri. È finito davanti al giudice perché nella sua abitazione sono state trovate 14 piante di cannabis da cui si possono ricavare tramite poi il processo di essiccazione foglie per un peso di 350 grammi. Insomma il giudice non ha condisceso alla versione fornita dall'imputato che diceva che queste cose gli servivano per il processo di realizzazione delle sue borse e lo stesso aveva portato le borse in Tribunale per farle vedere al giudice. Superantenna Assoria e il Comune rassicura. Si stanno valutando altri siti idonei. L'assessore Mila della Dora e Morotti dicono ai residenti nessuna autorizzazione per il momento è stata ancora rilasciata. Ovviamente la protesta è rivolta per l'installazione di quella grande antenna che dovrebbe ospitare le installazioni del 5G tra via Nobiliare e via Caboto. Stiamo realizzandosi con Iliad, ha detto l'assessore della Dora, per sottoporre soluzioni alternative alla localizzazione in altri siti che non siano molto vicini alle abitazioni. Quindi questa avvertenza si sta ricomponendo. Vediamo anche a Vallefoglia dove si parla di un intervento a favore delle start-up marchigiane. Ieri il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, ha illustrato il contenuto di una nuova legge che finanzia quelle start-up che si dedicano soprattutto alla ricerca. E un caso particolare in questo senso è stato costituito dalla start-up Virasciuzze di Ferminiano che ha costituito nel suo laboratorio di ricerca un nuovo procedimento per la sanificazione degli ambienti. Invece di sanificarli giorno per giorno con il dispendio del prodotto e poi magari col fatto che la cosa non è tanto sicura perché una volta sanificata arriva una persona e ricontamina ancora una volta, questa invece è una sanificazione che dura per tre mesi e non c'è bisogno di rinnovarla di volta in volta. Quindi una ricerca innovativa che poi è stata anche finanziata dalla Regione e che produrrà a livello regionale, a livello territoriale e anche un aumento dell'occupazione. Per Urbino si parla invece di un servizio fornito dall'ospedale in modo particolare per le mamme, un ospedale amico del bambino, più supporto a mamme e neonati. Si tratta dei partner del servizio che sono ASUR, Comune e l'Associazione Aditi, collaborare con i consultori. Questo è un po' l'input che viene espresso. L'ospedale amico del bambino propone di favorire l'attaccamento del neonato alla madre e favorire anche l'allattamento al seno. È possibile, grazie al Rooming In, che ogni madre stia vicino sempre al suo bambino in ospedale. E tra l'altro nei prossimi giorni sarà disponibile anche il Bilico Kun, ovvero una fitoterapia del neonato vicino alla propria mamma. Quindi sono soluzioni avveneristiche, soluzioni che si riferiscono anche a concetti antichi, perché in realtà il bambino appena nato che stia appoggiato proprio nel corpo della mamma così stabilizza un rapporto che poi influirà anche dal punto di vista educativo negli anni a venire. Sul resto del Carlino, l'apertura è dedicata ancora alle premesse per quanto riguarda il porto, dopo che purtroppo Marina De Ceseri ha avuto dei problemi. Io ci sono, ma Cazziò deve mollare il porto. Spunta un altro imprenditore che proviene dal nord Italia che vanta interessi nella città. C'è stato un ultimo incontro qualche giorno fa al Botanic. In questo caso viene intervistato il suo commercialista, però è un contatto che non ha risolto, che non ha concluso nulla di fatto. E quindi ancora la situazione è così in pregiudicato. Il Tribunale deve ancora formalizzare la sentenza di fallimento nei confronti di Marina De Cesari. E poi vediamo anche qui, a fondo pagina del resto del Carlino, la legge sulle start-up che è stata varata dalla Regione Marche e soprattutto con gli effetti positivi sul Viraschutz di Ferminiano. Complanare Sud è più vicina, c'è lo studio di fattibilità. La provincia consegnerà il documento entro il mese di giugno. In questo caso parla il presidente della provincia, Giuseppe Paolini. Aspettiamo che il Comune ci fornisca la cartografia richiesta. Qual è la Complanare Sud? La Complanare Sud è quella nuova arteria che dovrebbe collegare la frazione di Tombaccia a Marotta. Un'alternativa dunque alla Statale Adriatica Sud, dove si verificano sempre molti incidenti. Il nuovo itinerario dovrebbe percorrere un po' la strada di mezzo. È una delle soluzioni più richieste, più stimolate dai residenti che vorrebbero che ci fosse questa alternativa al traffico in modo da dirottare molte delle auto che ora percorrono i lunghi rettilini della Statale Adriatica Sud appunto un pochino più a monte verso la strada di mezzo. E poi metti una primavera passeggiando per i musei. Il titolo che riguarda il cartellone di eventi culturali è stato presentato ieri dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore Etienne Lucarelli e poi vediamo anche da altre persone che gestiscono le strutture all'interno della nostra città. Qui vediamo il professore Budassi, presidente dell'Archeoclub, che gestisce i cosiddetti scavi di Vitruvio. Poi vediamo la direttrice del museo, vediamo Valentina Tommassoni per quanto riguarda gli esercizi della curia e vediamo Katia Amati, la presidente della Fondazione Teatro e Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Carifano. Tentato omicidio per un debito 8 anni ad un 43enne di Marotta, si tratta dell'episodio che si è verificato nell'agosto scorso e ha tirato in causa il buttafuori di 46 anni per il presunto debito di cui abbiamo parlato di 70 euro. Sull'arretramento remiamo in una direzione e sono le dichiarazioni del sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, che spiega le ragioni che lo hanno portato a disertare la conferenza con Peso Refano. Indossiamo la casacca delle marche dell'intera regione, come abbiamo visto. Mentre a Carrara continua la battaglia nei confronti delle scelte che Terna ha fatto per realizzare il nuovo elettrodotto interrato che dovrà collegare le marche con l'Abruzzo. A Carrara si realizza l'impianto di conversione della corrente alternata in corrente continua. Insomma, questo impianto certo non è molto gradito dai residenti smantellate. La centrale esistente hanno chiesto di nuovo i residenti di Carrara. Mentre Mondolfo, in previsione appunto della Pasqua, fa il pieno d'arte e gastronomia. Ricco il calendario di manifestazioni primaverili ed estive approntato dall'amministrazione comunale al Via il 23 aprile. Dopo Pasqua, insomma, non proprio in questi giorni. Si parterà appunto il 23 aprile con la 73esima Sagra dei Garagoi a Marotta. Un appuntamento tradizionale, 73 anni, che si svolge questa iniziativa. E poi tutti gli altri eventi fino al 26 settembre quando si terrà la Fiera di Santa Giustina. Da assegnarsi nell'agenda l'edizione appunto della Sagra dei Garagoi, come evidenzia questo piccolo sommario, perché veramente lì il gusto, il sapore del mare e la bravura dei cuochi di Marotta fanno la differenza. E a terre roveresche torna anche la Fiera di San Giorgio, un'edizione ricca di proposte ed un evento di spessore per quanto riguarda il concerto con i nomadi. Abbiamo sforato oggi, era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Buona giornata. Grazie a tutti.